E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E sono Stefanie, sto giochendo a Tower United E torniamo qui nella nostra fantastica serie In compagnia, ovviamente, sempre di SPGOK e Luca Esattamente, spieghiamo velocemente il piano di oggi Allora, partiamo guardando un pochettino I vicini, quindi tutte le persone Che abbiamo come vicini, con tutte le loro case Folli e particolari Prendiamo un po' di ispirazione Per, diciamo, migliorare la nostra casa E spendiamo, dopodiché 60.000 monete del gioco Per arredare completamente la casa O quasi E cercare di renderla super fantastica Quindi preparatevi perché questo episodio è super epico Ciao ragazzi A Luca è venuta in mente un'idea totalmente geniale Allora, dato che la nostra casetta Non è ancora molto bella Bisogna ammetterlo Per colpa tua, Steph Per colpa tua Esatto Allora, ragazzi Tu con la serra e dare bene E l'avessi lasciato a noi l'arredamento Non è tutta colpa tua Espi È colpa del budget Non è colpa mia La mia creatività è buona Ma ho pochi soldi E quindi mi sono, ad esempio, dovuto arrangiare con le pizze nelle pareti Capisci? Proprio Perché E con le scommesse Non lo so È un vicino scatenato In ogni caso L'idea è quella proprio di andare a spiare gli altri vicini Per vedere come hanno arredato le loro case E magari prendere un po' di influenza per migliorare la nostra casetta Ispirazione Brava L'ispirazione Mi raccomando Esatto Esattamente, ragazzi Quindi, allora, andiamo in un condo A me piace il numero 103 Andiamo a vedere com'è E speriamo di prendere un po' di ispirazione per noi Prima casa siamo arrivati Però diciamo che Dove siamo capitati? Non è come me lo aspettavo Un po' stravagante Però guardate queste scale Le voglio anch'io tutte colorate Allora Guardate le scale Ragazzi Ma io non sapevo che si potesse Cambiare il colore di ogni scala Il neon Al neon nelle scale Io voglio i neon Bisogna comprare i neon Aspettate Luca, Luca Sei dove si comprano questi neon? Eh, credo sempre dal negozio del jetpack Ok Ok Allora Qualcuno lo deve segnare Mi lo segno io Vai, Steph Sta segnando gli appunti Neon nelle scale Neon Scale Anche in bagno Anche in bagno Fatemi andare a vedere in bagno Mettete la tavoletta Metti il neon anche lì Ok C'è un tostapane nella vasca C'è un calderone Oh mio Dio Guardate il calderone qua Perché il tostapane nella vasca? Questa scatola di caramelle Da dove l'ha tirata fuori? La voglio anch'io in cucina Fere, vieni a vedere Assolutamente Guarda Eh, ma sei che ti dico Questo secondo me è soltanto per Halloween Vedi che è un oggetto speciale Secondo me non lo ritroviamo Care, lo voglio Sì, va, Steph Non aprite il frigo Perché? Non aprite il frigo Perché? Oh, mamma mia Ma che roba è? Allora, chiudiamo Nessuno ha visto nulla Nessuno Nessuno ha visto niente Guardate il pavimento qua Cos'è un tappeto questo? Nessuno ha visto niente Non ho idea Però è davvero carino È bellissimo È bellissimo È vero C'è la discoteca con tipo una cassaforte No Vabbè Ma si può aprire la cassaforte State scherzando Si sta prendendo Si sta prendendo Io l'ho aperta L'ho aperta Fate spazio Fate spazio Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Non è male Andiamo a vedere le stanze da letto Vediamo se lì c'è qualcosa di normale Questa è la prima E credo che sia un super cinema Ha fatto il cinema qua È stata trasformata in cinema Bellissima È bellissima Guardate Guarda come si è seduto subito sul trono lui E questa è la sedia più bella Anche poi l'inquilino è qui davanti a noi Non l'abbiamo fatto vedere Sì, sì, sì E questo tizio è un po' strano Un po' sospetto È felice però Ci ha salutato Ci ha conto bene Molto felice È felice di avere dei vicini Buongiorno Si è seduto qui al cinema Allora, mi piace molto lì del cinema Ma noi purtroppo siamo in quattro Quindi non possiamo fare la stessa cosa Magari quando avremo una casa più grande Allora facciamo anche il cinema Ok, questo è Ma guarda cos'è Prima di vedere quest'altra casa Che sembra davvero interessante E che soprattutto non è il nostro appartamento Quindi è totalmente diversa Vi voglio fare una domanda Che voto date alla casa di prima? Perché voglio dare un voto ad ogni casa che guardiamo Allora, è più otto Fere? Nove Fere nove Mi è piaciuto un sacco Soprattutto il mitra nella stanza da letto Mi ha conquistato Ok, allora io do sei Non è piaciuto Io do sei Sinceramente C'era qualche buona idea Ma c'era troppo caos Per i miei gusti Bisogna essere più precisi Era bellissima tutta colorata Fantastico Ascoltate, io non ho criticato i vostri voti Quindi lasciatemi in pace In ogni caso Benvenuti in Giappone A quanto pare Eh sì Questa forse Allora ragazzi Venite qui in cucina Guardate questo granchio che sta cucinando Ma è ancora vivo Stef E' un po' si muove No, no, no A me mettono ansia i granchi, i ragni e i serpenti Quindi proprio Sto a distanza Che bello C'è anche il foro che si apre Allora, è molto bello la cucina Guardatevi, potete sedere anche qua Guardate che bello Ma è un ristorante Io vorrei ordinare un po' di ramen Grazie C'è del ramen? Altro che l'acquario che abbiamo preso a Luca Che cosa bellissima Ci sto rimanendo malissimo È strabella È strabella E venite fuori Venite fuori No, guardate qui Qui, qui, qui I forzieri No, Fere No, il giardino zen Fere Guarda qua Venite qui Questo superi qualsiasi giardino zen esistente Esatto È un tesoro dei pirati Guarda Quanta roba c'è Ma come è possibile Ma dove ne trovate queste cose? Ti posso dire qui Cosa? C'è una piscina sospesa Cioè, sedite qua Allora Con un granchio maggiordomo Beh, è normale come cosa Il granchio fa da tavolino No, evidentemente gli piacciono i granchi È mona Un po' una fissa Ha una passione per i granchi Una passione sicuramente per i granchi Allora, la piscina volante È un'idea davvero brillante Che bellina Però non la facciamo Perché non voglio niente di volante Però steppi, vieni Chiedo, i granchi invece Andiamo No, no, i granchi niente Spi, li odio Il giardino zen Fatemi vedere il giardino zen Guarda È strabello È molto strabello È molto strabello Io mi sto perdendo Ma ragazzi È troppo stretto È strettissimo Questo fa schifo Allora, qui sopra per ora è terribile Non mi piace Però c'è la discoteca Venite alla discoteca Che almeno c'è spazio Guarda, discoteca? Qui, Espy Espy si è perso nel labirinto Del primo piano E ovviamente c'è anche un granchio Che festeggia I granchi non possono mai mancare Hai visto la signora La signora gatta qui? Che c'è il rossetto E le ciglia finte Ragazzi, ma dove siamo capitati? Che casa è questa? Ogni casa è sempre più strana No, a me sta inquietando più questa Di quella precedente Io voglio salire le scale Scusate Una palla Oddio Sì, sì Non c'è nulla Non lo so È strano Forse un posto segreto lì in alto Non lo so Non lo so Non credo Guardate, guardate C'è il condotto dell'aria Potete entrarci Cosa? Può entrare lì dentro? Ragazzi 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 No, 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 no Siamo in una stanza segreta Arrivo, 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 arrivo Siamo in una stanza segreta Oh, è tipo l'altare Oh Ma davvero si possono avere ste cose in casa? È benissimo Sì Benissimo L'altare del gatto è fantastico Questo è fantastico Siamo in una stanza segreta La casa è ufficialmente finita Cioè non è proprio finitissima Al cento peccato Quasi, quasi Ma è quasi completata Inizia ad essere una casa Per quanto mi riguarda È già qualcosa Allora, iniziamo mostrando il salone 3, 2, 1 Eccoci Allora Abbiamo preso ispirazione dal divano Appunto quello che avevamo visto Abbiamo messo un mobiletto basso Dove tenere tutte le cosette E la tv gigantesca È costata 15.000 Infatti è enorme Finalmente Forse è la cosa più cara di tutta la casa Quante volte ti sei giocato la casa, Steph, questa volta? Tante volte Tante, tante volte Però ne valsa la pena Poi Se noi ci spostiamo A parte le luci qua Ma le andiamo a vedere dopo Quindi state verso il basso Mobilettino qui Non avevo molto Quindi ho messo solo gattini Vabbè, ci stanno Nella cucina ho cambiato il pavimento Come quella di quel tizio Come lo volevo io Bellissimo Ed è davvero, davvero carino È bellino È figo, è figo Ci sta bene Ci sta bene Poi Secondo me questa è la cosa più bella Quindi saliamo le scale E facciamolo vedere Ok Spim Abbiamo messo Le immagini personalizzate Per entrambe le stanze Così ci si confonde Esatto, esatto, esatto Così non ci confondiamo Dopodiché Allora Facciamo vedere prima la nostra stanza Che è più piccola Batteria per Ferre Dato che le piace suonare la batteria Vai Ferre Aspetta Non so i tasti Sono difficili i tasti, Steph Si nota che si Ok, scuse buone Vabbè, allora Tra un episodio e l'altro Ferre si allena E ci fa una canzone No, io la so suonare dal vivo Il problema è che con questi tasti Sì, sì Sì, sì Sì, sì Io la so suonare su chitarino Adesso lo picchia Vabbè La so suonare in realtà Postazione per il computer Postazione per il computer Dove registrare Che verrà migliorata pieno pieno Perché costa tutto tantissimo Però guardate il mapamondo Se promettelo Potete far girare Carino Così possiamo scegliere Dove andare nel mondo Dopodiché Nel letto abbiamo aggiunto Una bella lampada E abbiamo aggiunto Un bell'armadio Dove mettere la roba Dato che non ce l'avevamo Giustamente, giustamente Adesso andiamo nella camera di Espy Qua c'è la cosa più bella Di tutta la casa Guarda un po' Espy, ti segue Muoviti Espy Fai vedere come ti segue È la papera stalkerosa Esatto, ti segue Qualunque movimento tu faccia Ti segue È bellissimo È troppo bella questa cosa che segue In ogni caso Oltre alla paperella Abbiamo aggiunto la pianola Che avevamo tolto Dalle soggiorno Così anche voi potete suonare Abbiamo messo la lampada Quale è la nostra Riciclata Anche il pesce di Luca ancora E inoltre qui c'è una sorpresina Altro che pesce Espy Meglio questo Un granchio Allora Allora mettiamo qui Nella boccia del pesce No, non ci sta Non ci sta Quindi non direi eresie Dai Devo dire una cosa Io non so Come mi è comparso Cioè io non l'ho comprato Ve lo giuro Come il salvadanaio Che è scomparso da solo Questo granchio È comparso a caso Non ci credo Non so Non so se è pericoloso Voleva essere adottato Eh, può essere Ma non ci credo Davvero ti ha appartenato Io non l'ho comprato Come è possibile Io, beh, non lo so ragazzi Non ne ho idea Forse il salvadanaio Si è trasformato in granchio Ma non è che lui Poi ci ruba gli altri salvadanai Non lo so Non lo so In ogni caso Avete diciamo l'assistente Per registrare Adesso Per favore seguitemi Allora Devo fare una cosa importante Devo mettere notte Per far vedere l'ultima zona Ok Così secondo me può andare bene Venite fuori Ok Ok Se vedete ho aggiunto delle lampade Sì Ok E guardate qua A fianco alla mia amaca Bellissima No, bello C'è il futelello Già, già, già Però c'è decisamente Troppo buio Mi sta arrabbiando Nessuno ha il marshmallow Però questo fuoco È spettacolare Quando li avremo Li potremo cucinare Bellissimo Ok, allora Ultimissima cosa Che dobbiamo Vederla con il jetpack Venite dove c'è il ring Lo so già Sedetevi perché è stranissimo Quando vi sedete Sedetevi Espi, sediti Sì, fa un effetto strambo Ah, che fastidio Per guardare le stelle Esatto Per guardare le stelle E le persone che si danno le botte Ovviamente Aspetta, metto le stelle Che sono ancora più belle delle stelle Beh, certo Le stelle sono fatte per guardare Le botte Allora, le stelle in tutti i sensi Di botte Ah, beh È vero È vero È vero Possiamo guardarci tutte le costellazioni da qui Comunque secondo me è una cosa carina Per aggiungere un qualcosa Purtroppo niente ancora Saki da box Perché costavano 8.000 Vabbè Oggi abbiamo speso tantissimo Oggi abbiamo speso 60.000 Per arredare così la casa Quindi poi piano piano Aggiungeremo magari qualche altra piccola cosa Sì, sì, sì Comunque Le lucettine qua nelle scale Sono straordinarie La cosa più bella Sono davvero troppo belle La cosa più bella La paperella e i poster Però poi le luci sono bellissime Mi piacciono davvero un sacco Bene Se è riuscito Aspetta, lasciate un bel like E se è la prima volta che avete il nostro video Potete considerarli Descrivervi per aver perduto il video E altri video Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao